L'onorevole Tino Iannuzzi ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Dario Franceschini per ricomprendere nel parco archeologico di Pestum l'area di Velia e la Certosa di Padula al fine di realizzare una gestione unitaria, sinergica e coordinata dei tre siti. Fin dal 1998, ricorda Iannuzzi, l'UNESCO è scritto nella lista del patrimonio dell'umanità i paesaggi culturali del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le emergenze archeologiche di Pestum e di Velia e con la Certosa di Padula. Pertanto, anche in vista del redigendo piano di gestione del predetto sito dell'UNESCO di Chiara Iannuzzi, appare necessario ed opportuno accorpare in capa l'autonomia di Pestum anche gli scavi di Velia e il compendio monumentale della Certosa di Padula. Il sito di Elea Velia ha uno straordinario valore archeologico, paesaggistico e culturale. La Certosa di Padula è un monumento di enorme riconosciuto pregio ed insiste anche essa come Velia nel territorio a sud della provincia di Salerno. Di recente, sia il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni che il comune di Ascea hanno richiesto al MIBACT di aggregare l'Alea di Velia e la Certosa al Parco di Pestum, che dal 2014 è stato dotato di autonomia speciale. Dal richiesto accorpamento, Velia e la Certosa di Padula, sottolinea il parlamentare salernitano, potrebbero trarre sicuro beneficio, atteso che il Parco archeologico di Pestum, anche per effetto del previsto potenziamento ed ampliamento della pianta organica con architetti e archeologi, sicuramente garantirebbe la gestione unica, ben coordinata ed integrata dei tre siti, con la dovuta cura ed attenzione, dando così luogo ad un'esperienza pilota molto significativa ed interessante per l'intero comparto e giustamente in coerenza con l'iscrizione nella lista dell'UNESCO del Patrimonio dell'Umanità. Quanto auspicato dal Onorevole Tino Iannuzzi era oggetto di un documento indirizzato al Ministro Franceschini e approvato all'unanimità nei giorni scorsi dal Consiglio Comunale di Ascea e che porta la firma del Sindaco di Ascea Pietro D'Angiolillo e del Consigliere Comunale con delega alla Cultura Vincenzo Pizza.